E cominciamo invece ad occuparci della capitale con questa rassegna dedicata a Roma. Partiamo dall'inserto del Corriere della Sera, le mani delle cosche sul decoro. Questo è il titolo di apertura alla regione con Zingaretti, nessuna gara vinta dalle società coinvolte nell'inchiesta, le ammissioni di Coltellacci, conoscevo il dirigente del servizio, ho assunto moglie e cognato. L'inchiesta su mafia capitale coinvolge anche il decoro urbano finito nell'orbita del clan, mentre la regione assicura con Zingaretti nessuna gara vinta dalle società coinvolte nell'indagine. E ancora a Parentopoli la solidarietà dei vertici dell'Ama. Igreggio Presidente esprimiamo una ultima forma di complicità. E l'8 marzo del 2011 piena Parentopoli e una quindicina di dirigenti Ama scrivono a Daniele Clark e Franco Panzironi. E ancora la nuova verità sull'omicidio di Valerio Verbano. Luglio 2013, ristorante, seduti al tavolo Massimo Carminati, Luca e Domenico Gramazio. I tre ascoltati dal ROS parlano del comune. Carminati però dice altro. Non fa nomi ma i suoi discorsi sembrano portare ai killer di Verbano. Stadio Marino ai tifosi romanisti fate pressing. Il sindaco lancia un appello calcistico ai tifosi giallorossi. Fate pressing sui consiglieri comunali affinché partecipino alle riunioni in Campidoglio per votare. Il via libera all'impianto della Roma ma l'uscita radiofonica del primo cittadino è stata accolta con freddezza dai politici di maggioranza e opposizione. A centropagine il dolore di Roma per la diva che scelse di tornare, Virnalisi e la città. Questo è un po' il parallelo che viene percorso dall'articolo dedicato alla celebre attrice scomparsa per quanto riguarda il suo legame con la capitale. In fila per scambiare i libri in metro solo alla stazione di Lepanto mille volumi e c'è chi dona con la dedica ad Attac. Corre sui binari e si ferma alle stazioni gustandosi il percorso. Il viaggiatore lettore che prende i mezzi pubblici per spostarsi in città insieme a un libro da leggere ha ricevuto ieri il regalo di Natale dal book crossing di Attac Libra 2.0. Alle stazioni della metro B di Conca d'Oro e alla metro A di Lepanto centinaia i libri donati da Fandango Libri, fazzi editore, edizioni di Renzo Editore. E ancora lo sport con la Lazio, Felipe Anderson cerca il posto fisso, una grande partita a San Siro per convincere Pioli. E' questo il sogno di Felipe Anderson, talentino brasiliano sbocciato nelle ultime settimane dopo un lungo ambientamento. Inter-Lazio è la sua occasione. E ancora invece sul fronte giallorosso. Oggi è il giorno del giudizio per Rudy Garcia. Verrà discusso oggi pomeriggio il ricorso contro le squaifiche di Garcia. Due giornate e Olebas, una dopo Genoa-Roma. L'ipotesi più probabile è una sospensione con Rudy in panchina per Roma-Milan. Questo potrebbe essere uno degli scenari a cui potremo assistere. Vediamo appunto l'inchiesta a Mafia Capitale. L'ufficio Decoro era nel nostro libro paga. Le ammissioni di Sandro Coltellacci, socio di Buzzi. Dopo aver ottenuto gli incarichi, ho assunto la moglie e il cognato del capo del servizio. Nella serie della 29 giugno spuntano 23 mila euro in contanti. Il Campo Nomadi di Castel Romano ci fu dato senza gara. Una notizia che riguarda la Capitale, ma riguarda anche da vicino Pomezia ed intorni. Insomma, stanno emergendo diverse situazioni che riguardano proprio il suddetto Campo Nomadi. Parentopoli, vertici di Ama e la solidarietà a Panzironi. In quest'altro articolo che ben si lega alle vicende di Mafia Capitale. Così come quello che troviamo sulla regione. Nessuna gara vinta dalle cooperative. Da marzo 2013, niente appalti alle società coinvolte nell'inchiesta. Gli avvocati parlano di abuso del 416 bis. Andiamo poi a dare un'occhiata alla pagina dedicata alla Capitale da Repubblica. Con questo titolo, la Corte dei Conti, la maestra Capitale, danni incalcolabili. La Fondo di Squirtieri, il capo dei giudici contabili. Quindi interventi pesanti per recuperare quanto sperperato. E per la giunta settimana decisiva sulle nomine e sullo stadio. Da Tordiquinto intanto sgomberato il club del delitto esposito. I verbali poi con il boss e la casa al mare a 400 euro del De Manio. Entro un mese spostiamo i camion bar. Si torna a parlare di questa vicenda della Capitale. Con il Tar che boccia il ricorso degli urtisti, il comune dà il via al trasferimento. E ancora i mille di via urbana scrivono al municipio, vogliamo la strada tutta riservata ai pedoni. Abitanti e resercenti, così è bella come Parigi. Parliamo anche di saldi. Il 2015 inizia con i saldi in anticipo sconti. Già la sabato 3 gennaio l'ok di Zingaretti all'idea dei commercianti. È appunto arrivato nelle scorse ore. E questa notizia Giulia la troviamo anche sul web. Sì esattamente Alessandro, scendono in picchiata gli acquisti natalizi e per questo c'è l'anticipo dei saldi al 3 gennaio. Come dicevi, lo shopping di Natale è completamente fermo, le vendite stanno andando male. Alla fine arriva la decisione di anticipare i saldi invernali addirittura pochi giorni dopo Capodanno, a sabato 3 per l'esattezza, 3 gennaio. Su questo spostamento della data, inizialmente prevista al 5, ieri c'è stato l'accordo unanime nella conferenza delle regioni. Anche la giunta regionale del Lazio ha varato il cambiamento di data e dopo un passaggio obbligatorio in commissione, lunedì prossimo sarà ufficializzato l'avvio dei saldi prima del previsto. A chiedere a gran voce l'anticipo sono state alcune associazioni di commercianti che, data la situazione, hanno pensato bene di chiedere questo anticipo della data. Rosario Cerra, presidente della Confcommercio Roma, è giusto farlo, ha dichiarato, alla luce delle difficoltà del commercio legate alla diminuzione dei consumi. nel Lazio si sono persi più di due punti percentuali in un quinquennio e alla sensibile riduzione della capacità di spesa delle famiglie e di individui che dall'inizio della crisi ad oggi si è ridotta dell'11%. Massimiliano Di Toma, inoltre presidente di Federmoda, ricorda che un dato per spiegare l'importanza dei saldi invernali costituiscono oltre il 30% del fatturato totale di un negozio, quindi una percentuale molto molto ampia sul totale. Anticipare i saldi nel periodo natalizio sfruttando il clima di festa può favorire una piccola ripresa dei consumi. L'ultima dichiarazione di Giovanna Marchese Bellaroto, presidente del CNA Commercio Roma invece. Quindi tutto anticipato dal 5 di gennaio, quest'anno i saldi si spostano al 3 di gennaio subito dopo Capodanno con questa data d'inizio anticipata poiché i consumi sono fermi e lo shopping natalizio non sembra dare nuovo vigore a quelli che sono gli affari per i commercianti. Sempre rimanendo in tema di regione e di capitale, c'è stato un incendio a Roma. Una donna è morta intossicata dal fumo nella camera da letto. Un'anziana di 85 anni è morta nel suo appartamento alla periferia della capitale. A riferirlo ai vigili del fuoco, secondo quanto si apprende, le fiamme sarebbero partite dalla sua camera all'arrivo dei pompieri in via Cesare e Badiali in zona Serpentara. La donna era già morta sul letto, presumibilmente intossicata dal fumo. Ancora da accertare le cause dell'incendio, ma non si esclude che sia partito da un acero votivo oppure addirittura da una sigaretta dimenticata accesa in casa. Ancora una notizia di cronaca sempre dalla capitale. Travolge un ragazzo in centro con l'auto, poi scappa. È stato arrestato il pirata della strada che a bordo di un'auto ha investito un ragazzo di 23 anni a Roma e poi si è dato alla fuga secondo quanto si è appreso dalla polizia municipale. L'automobilista, un 28enne italiano che guidava con patente scaduta, è stato rintracciato e arrestato. L'incidente è accaduto intorno alle 3 della scorsa notte sul lungo Tevere Marzio in centro. Il giovane è stato trasportato ad urgenza in ospedale e purtroppo rischierebbe addirittura l'amputazione di una gamba. Ulteriori aggiornamenti arrivano anche per quanto riguarda il caso Mafia Capitale. La Guardia di Finanza ha sequestrato beni come abbiamo visto anche in precedenza per oltre 100 milioni a Cristiano Guarnera. Il sequestro del patrimonio è di 100 milioni di euro riconducibile all'imprenditore arrestato nell'ambito dell'indagine su Mafia Capitale. Il provvedimento di sequestro riguarda tra l'altro quote societarie, 178 immobili e tre terreni. Il nuovo provvedimento è stato emesso dal Tribunale di Roma dalla sezione di misure di prevenzione in seguito alla richiesta da parte della DDA e della Procura della Repubblica di Roma stessa. Ed è stato eseguito dal Nucleo di Polizia Tributaria della Capitale. Riguarda le quote societarie, il capitale sociale e l'intero patrimonio aziendale della edilizia Piera SRL, dell'immobiliare Torre Argentata Costruzioni SRL e ancora della Verde Panfili SRL e dell'Igma Costruzioni SRL, del gruppo immobiliare Universo SRL e il 52% del capitale sociale della Devil Custom che opera nel settore della manutenzione e riparazione dei veicoli. A questo si aggiungono, come dicevamo in precedenza, i 178 immobili e tre terreni situati a Roma, Sacrofano e Mentana, alle porte della capitale e ancora a Villa Riccia, vicino a Napoli e a Pordenone. Sequestrato anche uno yacht e dieci veicoli tra auto e moto. Questo è il bilancio più nel dettaglio dell'operazione che è stata eseguita dal Nucleo della Guardia di Finanza, dal GICO della Guardia di Finanza su ordine della Procura. Quindi continuano ad aggiungersi tasselli all'inchiesta di mafia capitale. Questo un ultimo sequestro. Ci fermiamo ancora un istante, però tra poco altre notizie dalla capitale e dai comuni della provincia.